il ma bobby dove? dove lo volete? lì, lì, lì ok mettiamolo là grazie sempre colleghiamo io voglio dire che lo facciamo è il nostro cavo del po' e la una 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 quindi devi fare alcun controllo che chi lo sta montando se gli va bene l'arrestimento che poi vedremo dopo per questa cosa qua se volete non cambiare allora let's go che emana un odore che tutti quanti sentono in questo momento un odore di cosa? un odore di fattura di vita a ora questo è un profondo che è un profondo che è lì no mi piace è è un profondo non la che è un profondo e io comunque e il No, che sto semplicemente avvertendo, visto se loro volevano vicino al fumo era un problema. Stop! Stop!